Sì, so perché sono qui. Tu sai che tutte le volte è un'ape di vese. So che tutte le volte è un'ape di vese. Non è che ci trombano anche stavolta. Facciamo il possibile che no. Bene, allora speriamo. Guardate quest'uomo. Merita molto di più di quello che ha. E già ha un bel po'. Però io lo vorrei vedere là, nella sala del joystick. Per fare questo bisogna passare dall'ape. Le forche caudine bisogna passarle tutte. E quindi guardate lo spottino lì. Guardate. Domenica. Prendete memoria. 25. Tutti a votare. Per loro, che vuol dire? Che vuol dire per lui. Mi raccomando. E anche per lui. Non pensate più che altro a loro, ma pensate a lui. Quest'uomo. Quest'uomo che si dà da tanto. Per tutti. Mi raccomando. Vorrete mica deludermi. Perché secondo te funziona. Bocche. Ci trombano anche questa volta. Ci hai. Sali. 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 Grazie.